cosa sarebbe un canale youtube senza un unboxing molto probabilmente sarebbe soltanto un canale migliore ma oggi vi illumino con questo unboxing vediamo cosa c'è dentro questi pacchi e cosa possiamo trovare di interessante da utilizzare nelle nostre riprese allora io direi di iniziare con la roba più piccolina quindi con questo e poi proseguire con il resto quanto rumore quanto ci ha dato ok allora nel pacchetto più piccolo penso che si possa strappare anche così perché amazon a questo bellissimo vizio utilissimo di mettere le striscioline troviamo la fattura o lo scontrino di nel prodotto e troviamo a questa è proprio la batteria che mi serviva una bella batteria patona quindi di terze parti che ci servirà per eccola qua una bella batteria che ci servirà per un aggeggino che è arrivato poco fa e apriamo subito il secondo pacco dove troviamo questo aggeggino molto molto interessante per tutti coloro che fanno fotografia video e magari hanno poche illuminazioni in casa o anche desiderano forse fare qualche ripresa o qualche fotografia all'esterno in un luogo non troppo soleggiato beh direi che questo aggeggino qui è decisamente interessante io di questo alla versione 1 che in questo momento è da questa parte e questa è la versione numero 3 con un po di libretti di istruzioni manualistica roba che cade a casaccio adesivi che non so cosa servono ma in poche parole ecco qua il prodotto bello tutto profuma di nuovo eccolo qua questo è un faretto un faretto a led dimerabili quindi cambiano la temperatura colore dei faretti da più fredda più calda in base alle necessità vediamo subito se magari la batteria ce l'hanno data anche già leggermente carica così facciamo un test veloce si si funzionare funziona e ragazzi questo faretto fa una luce mostruosa una cosa che adesso non penso che riusciate a percepirla così ma vi posso garantire che è una cosa incredibile questa andrà direttamente a sostituire i fare che ho da questa parte che mi sa che andranno in pensione inoltre a interessante poi magari se vi interessa scrivetelo nei commenti possiamo fare una piccolissima recensione su questo prodotto perché è davvero efficace dietro ci sono diverse regolazioni interessanti che si possono avere ma questo ne possiamo parlare in un prossimo video se vi interessa scrivetelo nei commenti così ci organizziamo per farlo quindi questo non ci interessa questo non ci interessa questo non ci interessa direi che facciamo un po di spazio per il pacco grande eccolo qua allora non so manco io come iniziare ad aprirlo sto cosa allora direi di fare un bel taglio di lungo e due tagli laterali cosa ci sarà mai qua dentro dato che vi ho detto che vi voglio illuminare la giornata qualcuno potrebbe già immaginarselo allora vediamo un attimino cosa troviamo in uno scatolone così gigante ovviamente tanto tanto imballaggio leviamo l'imballaggio e dentro una scatola grande giustamente c'è una scatola piccola via eccolo qua una bellissima borsetta da passeggio no una borsetta che racchiude qualcosa di inestimabile valore almeno per chi fa video è molto interessante avere questo qua sempre dietro o meglio sempre dietro questo è più qualcosa da avere sempre in un studio fotografico o in un set dove necessita particolarmente luce tiriamo fuori il primo sac il primo pacco tiriamo fuori il secondo pacco più i pacchettini piccolini io è la prima volta che apro una cosa di questo tipo quindi dovrò capire come montarli e come regolarli no questo è un po' quanto mi è arrivato ora proviamo a vedere di montare questo marketing genio e proviamo a fare una piccolissima valutazione del risultato finale allora sarebbe molto più utile se io leggessi un minimo di istruzioni ma sono un po allergico ecco qua allora innanzitutto c'è da dire che il mio cavalletto sulla quale tengo il faretto in questo momento si sta distruggendo molto carino ma l'usura purtroppo l'ha colpito quindi ho dovuto per forza prendere un set di luci con gli stativi incorporati ok forse l'avete visto ma la marca di questi stativi di queste luci è questa qua non è una marca super nota ma è una marca che fa cose a buon prezzo e ora speriamo che siano anche di buona qualità allora iniziamo a spacchettare questo spacchettare quest'altro ok ah bene bene qua abbiamo già una cosa interessante e quindi qua abbiamo l'altra cosa interessante che sono le luci che vanno applicate all'interno all'interno di che cosa beh ormai l'avete capito di cosa stiamo parlando questi sono due soft box mazza quanto sono grosse mazza quanto sono grosse mazza quanto sono grosse sì decisamente speriamo che siano anche belle luminose qua vedo un po di colla varia messa in giro ma non dovrebbero avere problemi comunque le testiamo una e una due e anche questo lo mettiamo da parte ora qua dovrebbero esserci i teli i teli e i supporti ok ok ci sono i supporti e ovviamente ce ne sono due quindi di qua la stessa identica cosa sono noiosi vero gli unboxing effettivamente sì e vi dirò non soltanto da vedere probabilmente anzi certamente anche da fare ok quindi queste sono le strutture e questi sono i due pannetti vediamo di montarli cambiamo un attimino inquadratura così li montiamo luce sembrerebbe che faccia luce non ci agitiamo manca ancora una cosa proviamo a soft box arci e luce fu ragazzi e luce fu bene ora direi che vi posso lasciare in pace questa è tutta l'attrezzatura quindi due soft box con i loro stativi abbiamo il faretto led che abbiamo visto essere questo con la lucina da utilizzare come terza sorgente per magari dare uno stacco dietro o per altre faccende e in un prossimo video possiamo fare qualche recensione più approfondita mi invito quindi a iscrivervi al canale a mettere un mi piace e noi ci rivediamo con qualche approfondimento se vi interessa in un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti